Sì, è così. È il dilemma più antico della storia del mondo. Contano più i sentimenti o le emozioni? Te lo dico io. I sentimenti. Le emozioni sono così forti proprio perché vanno e vengono. Sono delle illusioni, scariche di dopamina, che finiscono nei conti correnti di noi divorzisti. Nient'altro. Non farò come papà. Io non sfascio una famiglia. Ci mancherebbe. Le famiglie si sfasciano per amore. Le distrazioni si cerca di tenerle nascoste, di farle durare poco. Ascoltami. Il trucco è di non dare loro la possibilità di diventare importanti. non ciò. Non ciò. non c'è. Non ciò. Non ciò. Non ciò. Non ciò.